Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo vlog sfogo Ragazzi voglio parlarvi della Vodafone Station Revolution Molti di voi sapranno che io a Milano ho la 500 Mega di Vodafone Station Ok? Con questa Vodafone Station che non è male Ma oggi di cosa vi voglio parlare? Voglio parlare... Si può sostituire la Vodafone Station Revolution? Mamma mia ragazzi, manda la sigla e tenetevi perché adesso mi scateno Sigla Ragazzi, l'altro giorno un mio amico mi scrive su Whatsapp e mi dice Ciao Alessio, intanto lo saluto Mi scrive Ale... perché anche lui... Ale Ale insomma... Ale Ale, ma che cazzo chiama? Ma vabbè comunque a parte questo Mi dice... Cacca Voglio mettere Vodafone Ho detto... va bene... Metti Vodafone... Ma sappi che se metti Vodafone non puoi cambiare la Vodafone Station? Ah... Uno sa, rimane un po' dubbioso... Probabilmente è andato a cercare su siti asdrubali... Praticamente ha scritto 3000 assistenze... Tra l'altro quelli di Vodafone gli hanno detto... Ma qual è il problema? Prendi e cambi modem... Eh... Dimmelo e vieni tu a farlo... Se non riesci cinghiate... Cosa lì ci? Non si può cambiare la Vodafone Station Revolution... Ha letto un post su... Su AVM... Cioè Facebook di AVM... Che dice che... Mi viene anche l'ansia... In Germania si può... Sostituire qualsiasi... Modem Router... E questo lo posso garantire... Ve lo posso garantire io perché ci lavoro su ste robe... Perché una legge tedesca... Praticamente ha sbloccato questa cosa... Ha detto tu SPI... Non mi interessa come e dove... Gli dai le credenziali... Eh ma lui cambia... Allora qual è il problema? Scarichi le responsabilità... Gli dici... Vuoi cambiare router? Non ti do più assistenza... Hai problemi di copertura wifi... Chiama il produttore del router... Qual è il problema? È molto semplice... E infatti i tedeschi l'hanno fatto... Ma chiaramente... Ma questo è un dato di fatto che loro sono un po' più avanti... Poi con la loro mentalità molto dura... Però questo è un altro discorso... E allora... Da lì mi è venuto il dubbio... Ho detto... Io avevo già sentito che c'è una direttiva comunitaria che impone questa cosa... Sì c'è una direttiva comunitaria che impone ai gestori di rilasciare le credenziali... Perché sostanzialmente i gestori devono rilasciarle... Ma il Vodafone non le rilascia... Telecom con le nuove VDSL... Ha fatto cinema... Ha bloccato destra e sinistra... Poi non si sa per quale motivo sono riusciti ad hackerare... Adesso il Freakz Boss 7490 si può usare... Ed è l'unico modem... Si può usare con la linea di Telecom... E voi direte... Ma tutti si possono usare con la linea di Telecom... Basta che metti il VLAN ID 835... Sì ma con l'AVM si può usare anche il telefono caro... Ok? E invece con Vodafone niente... Questa Vodafone Station non è male... Il problema è che non si può sostituire... Allora... Praticamente ho scritto a Vodafone 200.000 mail... Ho fatto di tutto... Mi sono fatto richiamare... Ho provato... Niente da fare... Le credenziali non le rilasciano... Io utilizzo una configurazione in NAT static con Vodafone... Che rindirizza tutto il traffico verso un altro router... Però c'è sempre un hop in più da fare... È sempre una vega... Io voglio una configurazione pulita... Voglio mettere il router che voglio io... Non me ne frega un cazzo che tu... Che tu... Che tu mi dici... Eh no ma così... Io col TR069 controllo lavoro a Vodafone Station da remoto... E se c'è il wifi che non funziona... Te lo sistemo io... Pronto Vodafone non mi va la Vodafone Station Evolution... Mi scusi ma lei non ce l'ha... Eh no... Modem Blu router della... Della tenda... Della... Della Treadnet... Chiama Treadnet... Ti saluto... Non me ne frega un cavolo... Ah no ma così... Come faccio a controllare la fibra... Cosa dici... Cosa stai dicendo... La ONT... Optical Network Termination per l'FTTH... Arriva prima della Vodafone Station Revolution... Per l'FTTH riesci a tranquillamente... A fare tutte le analisi che vuoi... Però... Se uno mette il Modafone... Il modem di... Non di Vodafone... Come faccio ad analizzare la linea... Non c'è problema... Gli dici che non gli dai assistenza... Qual è il problema... Hai voluto cambiare modem... Non ti do assistenza... È così semplice... Allora... Cosa aspettiamo... Cioè ragazzi... Secondo me... Se ci mettiamo tutti insieme... Con un'associazione consumatori... Secondo me riusciamo a svignarcela... Io voglio due milioni di commenti sotto questo video... Perché giuro che porto avanti la cosa... Sono abbonato ad Altro Consumo... Vado a reperire... La direttiva comunitaria... Che impone gli ESP di rilasciare il provider... Farò un altro video se la trovo... E la trovo... Fidatevi che la trovo... A costo di star sveglio fino alle 3 di notte... Farò un altro video... Voglio qua due milioni di post... Tutti quelli dell'associazione Altro Consumo... Insieme a me... Dobbiamo andare... Perché hanno rotto le balle... Ok? Non è male la Vodafone Station Revolution... Io consiglio Vodafone a tutti... Sono un Vodafone fan... Ma questa mia limitazione... Fa ancora... Predirigere il mio provider preferito... Che è Tiscali... E io ragazzi... Se Tiscali qui... Mettesse la Vodafone... Cioè... Mettesse la fibra ottica 300 Mega... Vabbè... Non vi posso dire null'altro... Un'informazione segreta... Ma non ve la posso dire... E io metterei Tiscali... Metterei Tiscali... E quindi... Sono obbligato a tenere Vodafone... Perché tra l'altro... È buono come gestore... Mi ci trovo bene... Però questa limitazione... A me non mi piace... Ragazzi... Spolliciate in su tutto... Commentate... Condividete... Denunciate... Difidate... Brucia... No bruciate... No no no... Attenzione... Non fatelo... Perché dopo... Andate al gabbio... E vado al gabbio anch'io... Perché ve l'ho consigliato... E non ve lo consiglio... Chiaro? 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 Capre? No scherzo... No dai ragazzi... Fuori su tutti i pollici... Scondividete... Condividete... Condite... Scondite... Fate quello che volete... Ma dobbiamo riuscire... A portare a casa un risultato... Ho fatto questo video un po' scherzoso... Io vi ringrazio... Che devo fare adesso? Ah... Devo mangiare... Mi ero già dimenticato... E niente... Al prossimo video... Vado a rimettere internet... Se no... Non faccio più nulla... Perché l'ho tolto... Per farvi vedere un po' questa Vodafone Station... Magari... Vi faccio vedere un attimo le porte... VDSL, ADSL, due porte Void... Quattro porte Ethernet... E la porta Ethernet... Per la fibra ottica FTTH... Dai... Per questo breve... Vlog sfogo è tutto... Vi ringrazio... Spolliciate... Condite... Scondite... Condividete... Ciao ciao... Ad Alessandro Tech World...